Oggi inizio facendovi vedere un prodotto per il corpo che è il Beauty Blur di Vita Liberata che vi ho fatto vedere già su Instagram, però so che non tutte mi seguite su Instagram quindi ci tengo a farvelo vedere anche qui, questo è un prodotto molto interessante potete usarlo sia sul viso che sul corpo, adesso io ve lo faccio vedere sul corpo ed è praticamente un prodotto che va a darvi un effetto abbronzato vi fa sembrare la pelle perfezionata perché appunto ha un effetto riempitivo dei pori, lisciante e vi dà un effetto anche luminoso, si setta quindi non macchia anche se non vi consiglio di utilizzarlo onestamente con capi bianchi e poi se lasciato dalle 4 alle 8 ore vi dà anche un effetto proprio autoabbronzante quindi vi lascia una tinta che vi resta il mio, questo è nella colorazione latte ma c'è anche la colorazione latte light che è più chiara se siete più chiare di me e poi ci sono anche colorazioni un po' più scurette questo è l'effetto che fa una volta applicato, io amo ragazze, guardate che bello proprio vi fa questa pelle luminosa, poi ovviamente si setta da solo, si fissa e vi lascio questo effetto glow, proprio pelle da Dea Greca, io amo è stupendo e mi piace anche l'effetto autoabbronzante che dà infatti non so se notate ma sul viso rispetto alle mani vedete che non sono proprio biancolatte è perché ho usato questo prodotto ieri l'ho tenuto tutto il pomeriggio sul viso e mi ha dato un po' di colorito quindi io lo sto adorando tra l'altro potete mischiare anche la crema idratante, io ho fatto così ieri al fondo tinta, potete messarlo da solo come primer viso vado ad applicare lo Smoothed Protect Primer di Nars che è anche una protezione 50 e mi sta piacendo molto, ha una consistenza a metà tra una crema e un primer siliconico e vi va a riempire tutti i pori mi fa durare anche più a lungo il fondo tinta quindi mi sta piacendo veramente tanto poi avendo la protezione solare 50 è veramente perfetto adesso che si avvicina l'estate come vi avevo anticipato nel vlog oggi andiamo a provare un po' di prodotti della linea di Orbexage che avevo comprato da Pinalli andiamo a provare il fondo tinta di Orbexage il mio nella tonalità 3C che è una colorazione media con sottotono rosa poi la palette occhi questa è la Rosewood Neutrals la palette di illuminanti viso questa è la Glitz è una bella shakeratina al fondo perché è liquido bella la colorazione molto naturale oddio è parecchio rosa vediamo se perché adesso ho anche una base ah no ok una volta sfumato esattamente il colore della mia pelle penso che contiene alcol all'interno sì l'alcol è il terzo ingrediente dopo l'acqua non so se sono felice di questa cosa perché io ho la pelle sensibile fondotinta che contengono troppo alcol non è che non vanno tanto d'accordo ecco con la mia pelle ovviamente avendo l'alcol significa che sicuramente è adatto a pelli grasse è sicuramente come se evaporasse sulla pelle quindi si asciuga e vi resta solo il pigmento quindi vi fa un effetto super naturale perché appunto non vi resta quella cosa pastosa di fondotinta sul viso perché evapora appunto sono stupita della coprenza perché pensavo fosse quasi invisibile invece ragazzi è coperto coprenza media come piace a me come previsto si è settato da solo quindi se avete la pelle secca o normale potete anche evitare la cipria ho le occhiaie super bianche perché lì non ci posso mettere l'autoabbronzante non può essere quello che vi ho fatto vedere prima non può essere usato sul contorno occhi vado ad utilizzare il mio fidatissimo correttore di Too Faced che ok me lo sono messo anche sulla bocca sapete ormai quanto amo questo correttore per il contouring vado ad utilizzare quello di Uda Beauty questo è il Tantour nella colorazione light metto un po' di contouring anche sulla palpebra nella piega giusto per creare un po' già un'ombra che ci farà da guida per gli ombretti perché io ho la palpebra proprio bianca bianca il fondotinta è impercettibile sul viso quindi su questo niente da dire l'effetto è stupendo veramente bello come cipria mi sta piacendo tantissimo ragazzi e questo ve l'avevo anticipato su Instagram che potrebbe essere un mio preferito questa è la Peach Perfect di Too Faced tutto quello che avete sentito su questa cipria è vero vi fa un effetto pelle perfezionata e lo so che lo dico di tante cipre ma questa per me le batte tutte quelle di cui vi ho parlato finora stupenda è super opaca quindi se avete pelle secca normale no anche questa fa un effetto impercettibile sul viso affina tutti i pori tutte le rughette proprio effetto photoshop e non si nota sul viso cioè proprio scompare è super super sottile come terra vado ad utilizzare la Laguna di Nars la base è stupenda ragazze perché sia il fondo che la cipria sono impercettibili sul viso mi piace tantissimo passiamo finalmente alla palette occhi di Dior Backstage ragazze così è chiusa guardate che bella e questi sono i colori questo ombretto qui è una base in crema sono curiosissima di provarla quindi dovrebbe essere un primer lo metto su tutta la palpebra mobile e anche lungo la rimacea inferiore angolo interno insomma ovunque voglio che l'ombretto si stampi proprio vado anche lungo l'arcata sopraccigliare inizio da questo rosino qua cipria che è opaco e vado proprio nella piega dell'occhio questo ovviamente non mi dà tantissimo colore ma mi crea una base poi per sfumare meglio gli ombretti successivi vado poi in questo colore centrale che è sempre opaco ed è un rosa scuro e inizio a definire la piega dell'occhio wow si sfumano da dio wow questa è una sola passata di colore e ho finito praticamente voglio provare col dito questo ombretto qua metallico guardate che bello è una sorta di borgogna con riflessi rosa fucsia una volta applicato non è tanto metallico è quasi un opaco satinato con questo leggero duo chrome fucsia lo prendo anche un po' con il pennello di prima da sfumatura così me lo porto leggermente nella parte bassa della piega dell'occhio e al centro voglio picchiettare questo color oro qua è un oro caldo quasi pescato anche questo non risulta estremamente metallico applicato ma è più un satinato come effetto quindi molto delicato come vedete non c'è un colore per andare ad illuminare magari l'angolo interno dell'occhio quindi lo facciamo con la palette viso degli illuminanti adesso voglio oscurire un po' il look magari prendo questo marroncino qua questo non è proprio opaco è un satinato vado nella parte finale della piega per creare un po' di profondità la cosa bella è che veramente basta poco ombretto perché subito scrivono e si sfumano benissimo l'effetto ragazzi sui occhi è super elegante è super sfumato io non so se riesce a rendere in videocamera ma dal vivo è qualcosa di stupendo ci sono rimaste un po' male che i metallici non siano proprio super forti però è bellissimo l'effetto mi piace tanto vado con lo stesso marrone anche a definire la palpebra inferiore prova fallout superata non ho un granello di ombretto sulla pelle cioè leggermente qua forse uno wow top questo mi piace l'unico ombretto scuro che vedo proprio scuro è questo viola qua voglio provare ad utilizzarlo per fare una sorta di linea di eyeliner non ha scurito tantissimo però ha dato un po' di definizione almeno mi spiace che ci manca sia un colore illuminante forte che un colore bello scuro appunto per scurire un po' la linea senza dover utilizzare un eyeliner vado con il mascara Monsieur Big di Lancôme che ragazze è ormai il mio preferito ve l'avevo già detto e trovo che a forza di usarlo mi sta facendo anche meno grumi come blush vado ad utilizzare Orgasm di Nars che mi sta piacendo tantissimo ha un riflesso doratino perlato molto bello, molto delicato perfetto per il periodo più estivo e andiamo finalmente negli illuminanti ragazzi io sono felicissima di provare questa palette questo è il packaging esterno e questi sono i colori i due superiori sono glitterati questo sembra non esserlo e neanche questo questo è lo swatch del doratino questo invece è questo colore più platino questo è il pescato come vedete i primi due hanno dei glitter questo no e questo è il bronzato che ha dei glitter leggerissimi è un riflesso rosato questi sono i quattro questi sono gli swatches non so se riuscite a vedere ma questi primi due sono glitterati mentre questo pescato no neanche il bronzato ma leggermente ha dei glitter all'interno i miei primi due sono i miei primi due sono super glitter faccio una prova applicando questo colore pesca wow wow è bellissimo è stupendo è luminoso ma non ha glitter vado in questo colore platino che invece dovrebbe essere cioè è chiaramente glitterato sì wow questo è proprio glitter però è molto elegante comunque da sera sicuramente lo metterei wow ok mi è piaciuta tanto mi piace tantissimo vado in questo colore pesca di nuovo e andiamo a creare punto luce all'angolo interno dell'occhio wow è bellissimo questo pesca è molto delicato luminosissimo ma molto elegante come effetto vado anche all'apice dell'arcata sopraccigliare leggermente per creare un altro punto luce sulle labbra volevo mettere uno dei nuovi gloss nuovi di Fenty Beauty che sono usciti a gennaio che avevo comprato non riesco più a trovarlo da nessuna parte quindi metto questa tinta di Catrice che in realtà è simile questa è la Matte Pro Ink nella colorazione 100 Courage Code bene bellezze questo è il look terminato spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un bel like cosa penso io dei prodotti a prima impressione sinceramente mi sono piaciuti molto ripeto della palette occhi metallici me li aspettavo un po' più pop però comunque l'effetto sugli occhi è stupendo si sfumano benissimo mi piace veramente tanto sono molto eleganti la base è bellissima adoro che ho tutto coperto ma è tutto molto impercettibile questo effetto perfezionato pelle di porcellana che amiamo e anche la combinazione di colori con questo rossetto mi è piaciuta molto quindi niente io spero di vedervi presso in un prossimo video tra l'altro ho fatto i capelli e li vedrete anzi li avete già visti in un reel sul mio Instagram perché mi avete richiesto in tantissime su Instagram di farvi vedere come faccio i capelli così li faccio semplicemente con la piastra li faccio mossi così quindi se siete curiosi potete andare a vedere il tutorial sul mio Instagram io vi mando un mega bacio e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao